ecco un ulteriore esempio di operazione utilizzando strategie volume master intraday siamo in positivo di circa 1700 euro vediamo se arriviamo a target oppure chiudiamo anticipatamente attualmente il mercato sembra continuare a scendere confermando quella che è la nostra previsione andiamo giusto ancora qualche secondo questo è un esempio di operatività volume master intraday l'unico volume master italiano sull'utilizzo professionale dei volumi ci consente di vedere esattamente cosa sta succedendo andiamo a chiudere vediamo se resiste ancora un po' quello che è la discesa qui sembrerebbe tornare a risalire quindi chiudiamo abbiamo realizzato comunque 1800 euro in una sola operazione questo è quello che si può fare ogni singolo giorno utilizzando le metodologie di volume master se dovessi avere ancora dei dubbi domande di qualsiasi tipo qui in descrizione troverai la nostra mail lasciaci i tuoi dati per avere ulteriori informazioni a presto